Allora vi spieghiamo come si svolgerà questo momento, innanzitutto come vedete da quello striscione che è molto emblematico, 14 agosto una comunità che vuole rinascere, noi siamo una comunità che vuole ricordare e siamo qua per questo, adesso diremo tutti i nomi delle 43 vittime scandite con il suono della campana, al termine faremo un minuto di silenzio, di raccoglimento e poi 43 rose consegnate e depositate vicino al luogo di questa tragedia. Carlo Gesù, Giovanni, Antonio, Gerardo, Matteo, Giorgio, Alessandro, Giovanna, Vincenzo, Luigi, Angela, Gennaro, Alessandro, Bruno, Cristian, Donna, Cristal, Mirko, Marian, Anatoli, Andrea, Claudia, Claudia, Manuele, Camilla, Roberto, Elcilla, Camuele, Andrea, Eriza, Francesco, Alberto, Marco, 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 Caitlin, Nathana, Mika, William, Juan Ruben, Leila Nora, Giancarlo, Admir, Mario, Elia.